mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro buongiorno ben ritrovati qui su radio rosso nera è un giovedì primo giugno primo giugno del 2023 2024 perché ormai siamo già proiettati verso la prossima stagione c'è ancora una partita da giocare domenica contro il verona ma oggi ricominceremo proprio da dove di solito si inizia a parlare della prossima stagione ovvero dalla maglia dalla maglia della nuova maglia del milan che è uscita pochi minuti fa ufficialmente c'erano già un po di anticipazioni negli ultimi giorni ma la possiamo mostrare oggi in via ufficiale poi ovviamente ci spostiamo sul calciomercato stava sandiera erico boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati ben ritrovato caro henry io partirei subito sfogliando un po di immagini della maglia chiedendovi qua sotto nei commenti un voto un commento se vi piace se non vi piace se avreste fatto meglio se avreste fatto diversamente cosa avreste voluto vedere nella maglia nuova e non dito il triangolo dello scudetto perché non si può decidete voi se le strisce van bene ne erano più definite più larghe più strette insomma scriveteci il vostro commento qua sotto nei commenti caro henry iniziamo la carellata sì questa è la maglia questo è un po lo zoom che ti fa vedere più il colletto e la trama passerete per farla vedere integralmente eccola qui c'è molto rosso se l'anno scorso era molto nero quest'anno è molto rosso sì come due anni fa cioè come l'anno dello scudetto in cui era praticamente veramente tanto rossa posto che come dicevi tu è tanto rossa l'anno scorso era tanto nera chissà se puma prima o poi deciderà di farci una maglietta rosso nera sarebbe cosa buona giusta che una certa ci rifanno a righe rosso nere perché il milano è rosso e nero non è né rosso quei dettagli neri né nero quei dettagli rossi ma vabbè detto ciò a me piace da morire questa maglia ma veramente 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 tanto mi piace tanto ok non ti vedo convinto non tanto vabbè giusto siamo in due siamo divisi no non mi piace tanto probabilmente perché c'è anche una differenza d'età ma non perché voglio essere per forza classico con le strisce rosse nere di una certa misura eccetera però questa sorta di battistrada che ti passa su una maglia rossa non mi piace tanto onestamente cioè capisco la modernità la diversità il fatto di doverla appare un po' diversa dal solito diciamo così guarda facciamo così la maglia in sé a me non piace moltissimo devo essere onesto mi riprende quota così il completo il completo con la parte nera quindi pantaloncini neri e cassetto di neri nel complesso torna essere discreta tra l'altro anche i numeri saranno neri il bec mi piace tanto allora se lo dicevo in anticipo cioè prima o poi puma ci farà la maglietta rossa e nera cioè perché noi non siamo né neri con il rosso qua e là né rossi con il nero qua e là perché è bene ricordarlo però tra questa quella dell'anno appena concluso che era la maglia dello scudetto e sorvoliamo perché sennò divento cattivo e anche quella dello scudetto ti dirò che è vero che certo ci hai fatto l'abitudine però era più un codice a barre che altro perché le righe nere diventavano più fitte andando verso il centro a me quella roba lì non piace questa a me piace cioè è molto rossa con le righe tutte più o meno della stessa misura le righe nere non sono nere piene cosa che sarebbe stata per me ancora più bella ma sono con questa sorta di trama con ste diagonali mi piace molto il fatto che abbia i bordini neri del collo e delle maniche mi piace il fatto che abbia il retro i nomi e numeri neri che abbia pantaloncino nero insomma a me questa maglia piace piace molto rispetto alle ultime tre o quattro ecco poi ovvio che si vaga a vedere magari i primi anni di puma hanno fatto maglie molto più belle sicuramente c'è quella per esempio che dell'anno in cui torniamo in champions quella con la trama del duomo no sotto solo sopra in nero e quel pavimento quella lì era per me la più bella fatta da puma però ecco questa rispetto alle ultime due mi piace molto di più allora facciamo una cosa ovviamente tra pochissimo ci spostiamo sul mercato ma ci prendiamo 30 secondi anche per quella del portiere la vediamo grazie a la laura giuliani del milan femminile è una maglia col colore molto simile a quella di delle ultime che abbiamo visto un verde che puma sceglie spesso per il portiere quello chiaro soprattutto anche se non si vedeva da un po è per i portieri con una trama un po da messico anni 90 maglia un po alla campus però sì e aggiungo che ripeto era un paio d'anni forse che non c'era il verde perché abituati al giallo fluo all'arancio fluo di don di di maignan quali l'illa viola l'ultima con la specie di vinaccia lilla viola una volta due non so quante e poi era donna rumma credo fosse stato l'ultimo con la maglia verde vediamo andiamo avanti sì non è un colore che mi fa impazzire diciamo ok andiamo avanti tanto nel caso devono acquistarla loro chi ci sta guardando e la devono indossare i giocatori l'andiamo a vedere tra poco chi indosserà la maglia del mino dell'anno prossimo anche perché ormai siamo agli sgoccioli canari coboiani mattino milan sta finendo sì ci siamo obbligo di riscatto alle porte che mattino milan sta finendo credo perché mi ricomincia obbligo di riscatto ma per oggi ancora mattino milan quindi torniamo a noi partiamo con le notizie di oggi allora tiriamo via il banner perché iniziamo a parlare allora a parte la roma maledetti rigori la roma ha perso l'europa league rigori decisivi gli errori di due difensori bainese mancini va bene andiamo avanti milan batti un gran colpo gazzetta ci dà comunque la copertina nonostante la la finale di europa league eh camada pronta a firmare ora l'off to chic ma il tecnico oddio non può al tecnico scusa non può bastare ecco perché di spalla tra l'altro c'è un terzo di maglia per frattesi vedo frattesi per tre sì quindi le tre big che si contengono frattesi questo sembra più questo sembra più un piccolo spazio pubblicità per chi lo deve vendere frattesi ma sì andiamo avanti rivoluzione milan pioli chiede rinforzi necessaria una punta kamada sì in sette giorni ora l'ottos chic obiettivo a firmare col giapponese entro mercoledì l'inglese costa 20 milioni a girù serve un aiuto che arnautovic battaglia su openda allora da ichi kamada o kamada deve firmare entro pochi giorni e lui vorrebbe firmare entro pochi giorni cioè all'inizio della prossima settimana per poi partire per il giappone tranquillo sereno col contratto in tasca così che non ce ne dobbiamo più pensare non dobbiamo tornare qui a fare le visite le firme e compagnie ieri a casa milan c'è stato un incontro con intermediario beppe bozzo che sta curando l'affare da vicino non tanto con la gente quindi roberto tucada ma con l'intermediario beppe bozzo per definire gli ultimi dettagli per far sì che il buon kamada firmi all'inizio della prossima settimana così il primo l'abbiamo portato a casa il secondo in teoria sarebbe l'off to chic anche se io comunque mi tengo una porta aperta su qualche altro centrocampista non sì al minan piace al minan tratta ma una porticina per qualcos'altro me la tengo aperta ti mostro zoomato quel campetto che si vedeva là sotto con menian calabria ciao tomori teo oggi tra l'altro gazzetta se non ricordo male suggeriva di vendere teo per fare cassa prima che rischiamo di perderla a zero tra qualche anno siamo un po alla fantascienza ma andrei avanti tonali con l'off to chic a centrocampo e qui per me non c'è zecca perché non ce li vedo insieme a fare coppia ma questo è il pensiero mio personale leao con kamada diaz asteriscato perché in teoria va comprato girù e i due pompari c'è arnautovic a openda allora per il centrocampo vediamo io credo che possano giocare insieme l'off to chic e tonali se soltanto se davanti a loro hanno appunto un giocatore come kamada e non un giocatore come brahimo come de chetelare o come tutti i tre quartisti più offensivi che abbiamo avuto in quella zona cioè è un centrocampo che può reggere solo soltanto secondo me se ha un aiuto ok quindi un aiuto di 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 quel tipo lì c'è un centrocampista offensivo schierato schierato in tre quarti se fai qualcos'altro per me a o eviti completamente bypass il discorso diaz o b fai qualcos'altro in prestito a parametro zero non penso che se compri loftus chic vai a spendere altri soldi di cartellino nel centrocampo e perché poi devi metterli anche per la punta si fa il nome di open da open da piace ma forse costa troppo per quello che si pensa che possa valere in questo momento è difficile da capire tra l'altro l'acquisto di loftus che camada chiuderebbe a tutta una serie di nomi relativi a giocatori extra comunitari quindi vari jonathan davidi vari balogun sarebbero già due nomi che escludi poi ce ne sarebbero altri open da wai sono tanti nomi scamacca stesso eccetera eccetera allora diciamo che sono tante le cose da fare come abbiamo sempre detto ma ci stiamo muovendo abbastanza in fretta cioè chiudere loftus chic camada al 4 5 6 8 10 non so che giorno mi do tempo fino alla metà di giugno il 4 al 5 la vedo grigia no entro che ne so la metà di giugno sarebbe importante sarebbe importante perché devi fare la punta perché devi fare qualcosa magari in tre quarti capire cosa fare con diaz devi fare un po di uscite capire se mettere dentro anzi forse dovrai mettere dentro un centrocampista in più e quindi chiudere già due colpi con già un'idea del terzo soprattutto penso alla punta a metà di giugno sarebbe un bel in termini tempistiche poi noi siamo maestri nel perdere un mese e mezzo dietro un giocatore e quindi non mi stupirebbe questa cosa e ci sarebbe anche però ecco dai voglio essere fiducioso avevo detto che sarei stato molto cattivo in quest'estate non so se li ho spaventati io non so se si sono auto spaventati da soli stanno viaggiando quindi bene così ok a proposito di centrocampo Tilleman che ieri ha fatto un video per salutare il Leicester ieri abbiamo sentito anche un giornalista di Leicester la trovate sul sito l'intervista fatta al collega riassumiamo al Milan piace lo ha seguito da mesi ormai da mesi 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 che lo segue sulla roma potresti vincere anche perché la roma in questo momento non vanta nemmeno più la partecipazione champions che avrebbe avuto con la vittoria dell'europa league ora se si muovono a parametro zero l'arsenal il liverpool il newcastle e compagnia che mettono sul piatto quattro e mezzo cinque eccetera lo saluti non ce la fai è ovvio se riesci a restare vivo nonostante le le avanzi queste altre squadre il Milan c'è il Milan piace il problema è che se arriva il Newcastle di turno mette cinque sul piatto è probabile che vada tutto qua noi in una certa ci arriviamo poi con le big di premier e il Newcastle per soldi e anche la partecipazione alle coppe ormai è questo attrattivamente per un calciatore il rischio c'è certo ma ci sta cioè rimarrebbe in premier league un campionato che conosce ha più soldi farebbe la champions league e se non è la champions league penso al liverpool l'anno prossimo l'anno dopo ancora al limite perché non è una squadra che sta troppi anni fuori dalla champions succede una volta che non si qualifica poi non le succede più quindi ci sta ci può ci può stare come scelta è ovvio che il Milan è un'opzione e sarebbe un gran colpo sarebbe un gran colpo non ci nascondiamo cioè tileman sull'oftus chic kamada di cui due di questi a zero mettere la firma io per il centrocampo ecco ecco a proposito se tileman non dovesse arrivare questo mio parere personale centrocampista con qualche piede in più e qualche chilometro in meno o in generale un giocatore che sappia fare più il mediano e meno la mezzala o il costruttore e meno la mezzala serve a questo milan quindi se non è tileman per me è un terzo che vada a riempire la casella di benasser per loftus chic riempie quella di che si per intenderci e kamada fa altro mestiere lì davanti alla difesa che si e loftus chic per intenderci poi ovviamente sono giocatori diversi benasser fosse stato sano bene ma siccome l'anno prossimo rischi di vederlo pochino molto pochino devi prenderne uno lì in mezzo che ti dà una mano e non anche perché non vorrei che tipo il 15 di agosto iniziasse a girare l'idea che vabbè ma dai ma più o meno per i gironi e per l'andata ci sistemiamo poi verso dicembre iniziamo a vedere se benasser sa per rientrare bene se no dai magari ci muoviamo per il mercato di gennaio che poi il mercato di gennaio non esiste mai eccetera 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 perché abbiamo già visto già almeno due o tre volte sì sì ma mi stupirei se andasse così ecco ti aggiungo una cosa due giocatori a centrocampo due oltre a benasser per quanto abbiano giocato niente perché hanno giocato praticamente niente pochissimo però li perdi che sono vranc e bakaio co è ovvio non giocato niente sono a livello numerico certo è anche a livello numerico ecco però a livello numerico li perdi vranc ogni tanto qualcosina giocato comunque quando c'è stato bisogno di far rotazione insieme a povega giocava lui bakaio co è strano da dire ma alcune partite è entrato quindi numericamente ci sono giocatori che ti servono hai perso benasser per infortunio perdi questi due ti restano tonali che l'unice povega ci metti dentro l'off to stick diventano quattro ne serve almeno un altro al posto di benasser eh sì caro e richiuderei con cardinale che torna in italia oggi stalto si festeggia il primo anno della nuova proprietà attesa in città forse per milan verona forse dopo chi lo sa prima o poi tornerà il buon jerry cardinale anche perché sul mercato magari se deve dare qualche indicazione su margini di manovra eccetera anche non è anche se non è che deve venire di persona sullo stadio siamo un po fermini po tanto con un vincolo su san siro che è lì all'orizzonte e quindi bisogna anche mettere una parola fine a questa stagione riaprire la prossima caro Enrico Boiani siamo arrivati in chiusura noi ci ritroviamo tra poco per chiama milan poi c'è lancia e oggi c'è pelle rossonera alle 16 ah perché giustamente domani non siamo a bilia a rullare va bene ciao a tutti mi raccomando mi raccomando guarda che vi vedo che state per chiudere il video adesso eh vi vedo noi dovremmo dirlo a metà vita adesso ci mettiamo sta roba di dirlo a metà video sta roba like ci supporta tanto commento condivisione diteci la vostra qua sotto iscrivetevi perché so che cercate e digitate a radio rossonera o mattino milan e non siete iscritti oppure vi arriva dei suggeriti sto video no iscrivetevi attivate la campanella così il video vi arriva automaticamente con una piccola notifica quando viene pubblicato ciao ciao a tutti mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro